Il notaresco, di nuovo in campo tra le mura amiche dopo appena quattro giorni, non vuole perdere d'occhio la capolista a campo basso, distante tre punti ma con una gara in meno rispetto ai terramani. Di fronte però c'è la terza forza del girone, il Cinzia è squadra esperta e forte, accreditate in estate come una delle favorite del campionato. Falasca, ancora in panca vista la convalescenza di Epifani, deve rinunciare anche a Blando squalificato, oltre ai lungodegenti, Bianciardi, Colombatti, Marcelli e Banegas. In avanti Palumbo si prende una maglia da titolare, Marchionni in panca con Ulcese. Tra i laziali scontata la presenza del bomber Cardella, classe 94 con 13 reti all'attivo, fischia Leonardo Tesi di Lucca. Alla prima offensiva il notaresco passa, pallone sulla tre quarti a sfera per Dos Santos che cambia marcia e Islalom supera Santilli. Facile piatto Mancino e 1-0, rivediamo. Cardella è giocatore forte e lo fa vedere attorno all'undicesimo, pallone dalla destra, stop di petto e destro al volo, pallone alto ma davvero di pochissimo. Manovra meravigliosa dei laziali e cross di pace sul secondo palo. In mischia il pallone va in rete ma il direttore di gara dopo conciliavolo Contini Brunozzi di Foligno blocca l'esultanza degli ospiti. Prima del duplice fischio ospiti che ci provano con una punizione messa al centro, mischia clamorosa col notaresco che libera, poi ci prova pace al volo ma il tre non prende nemmeno gli applausi. Anzi, nella ripresa stessi 22 di inizio gara e notaresco che dopo una splendida azione mette i brivi spaziali. Frulla scarica al centro ma l'ultimo tocco non arriva con gli azzurri che mandano via il pericolo. E il nono passa un minuto e pace da sinistra verso il centro prova il destro ma il muro lotariano si innalza e respinge. Ventesimo ripartenza al balonga da manuale del calcio e Gallo costretto al fallo su pace. D'Agostino va a calciare e beffa sciva sul suo palo. Uno a uno passano cinque minuti e il notaresco può immediatamente ritrovare il gol del vantaggio ma prima Frulla trova Super Santilli, poi Dos Santos centra il palo. La gara viva e bella regala l'ennesima emozione al ventottesimo quando D'Agostino brucia speranza in velocità ma il suo mancino esce di un soffio. Rivediamolo a fondo del dieci ospite grazie al replay di Mario Giacchetta. Trentaduesimo ci prova a quadro da distanza proibitiva ma Santilli è costretto ugualmente al corner. Cambi da ambo le parti e cronometro che tocca il quarantacinquesimo. Forcing notaresco ma al balonga sempre micidea l'incontropiede. Gli ultimi secondi sono vietati ai deboli di cuore. Marchionni in doppio slalom mette un pallone delizioso per Dos Santos ma il nove centra la traversa col pallone che poi non supera la linea di porta. Prima del triplice fischio punizione per gli ospiti. Shiba ha qualche incertezza sulla traiettoria ma poi riesce a sbanacciare e a evitare la beffa finale. Finisce qui. Uno a uno al Savini. Gara vibrante sin dai primi minuti. Pareggio che forse toglie le ultime speranze al notaresco. Albalonga che si conferma terza forza del campionato.